Ciao a tutti e benvenuti nel quarto video della seconda stagione del canale. Io sono Nicolò e questo qua è Ivan il regista. Ciao. Questo video sarà un po' particolare perché sarà incentrato del tutto sulla sistematica di una specie, l'Abax parallelepipedus, da quando è stata scoperta fino ai giorni nostri. L'Abax parallelepipedus è uno dei carabili che hanno avuto un maggiore successo evolutivo. Infatti la sua grande capacità di adattamento gli ha permesso di diventare una specie molto comune nelle foreste di quasi tutta l'Europa. È una specie predatrice che contribuisce al mantenimento dell'equilibrio ecologico nell'ambiente forestale e inoltre è di particolare interesse per il suo sistema di riproduzione, dato che le femmine si prendono cura delle loro uova. La storia sistematica dell'Abax parallelepipedus è però estremamente complicata, dato il gran numero di descrizioni che sono state fatte sin dalla seconda metà del Settecento, alcune delle quali ignorando completamente quelle precedenti. La prima descrizione di questa specie infatti risale al 1783. In quell'anno due entomologi tedeschi, Pillar e Mitterpacher, pubblicarono i risultati delle loro ricerche condotte nella regione di Posega, in quello che allora era il regno di Slavonia e che oggi si tratta di Posega, nella Croazia dell'Est. In quei risultati infatti era presente anche la descrizione della nuova specie Abax parallelepipedus, a cui per ora è stato usato il nome di Carabus parallelepipedus. Grazie alla descrizione dell'ambiente del ritrovamento è possibile capire che l'olotipo della nuova specie è stato catturato da Pillar e Mitterpacher nelle montagne a sud del villaggio di Kamenska e fin qui va tutto bene. Le cose però iniziarono a complicarsi quando la stessa specie venne ridescritta nuovamente da Vie nel 1789 con il nome di Carabus ather, in base ad alcuni reperti provenienti dal sud della Francia. Questa seconda descrizione ebbe una diffusione molto più ampia della prima tra gli entomologi europei, tanto che il nome Abax ather rimase in uso fino alla fine del Novecento, mentre la descrizione dei poveri Pillar e Mitterpacher venne dimenticata. Forse anche perché, diciamocelo francamente, ather è molto più facile da dire di parallelepipedus. Ora però devo aprire una piccola parentesi. Nel 1810 entrarono in gioco anche gli italiani, in particolare Franco Andrea Bonelli introdusse il genere Abax, nel quale venne inserita la specie descritta da Vie carabus ather che divenne Abax ather, però Bonelli non fissò la specie tipo del genere Abax. Inoltre, per complicarci ulteriormente le cose dato che non ci dobbiamo far mancare niente, nel 1828 il nome Abax parallelepipedus venne utilizzato da Dejan per descrivere una nuova specie, in più del genere Abax, costruendo così un ulteriore ostacolo per il ristabilimento della corretta priorità nomenclatoriale, in quanto i poveri Pillar e Mitterpacher, avendolo descritto per primi, avevano la priorità sulla scelta del nome da attribuire alla specie Abax parallelepipedus. Nel 1838 ci si misero anche gli inglesi, con Westwood, che disegnò come specie tipo del genere Abax la specie Carabus triola descritta da Fabritius, che in realtà però non era altro che un sinonimo della specie Abax parallelepipedus descritta da Pillar e Mitterpacher 55 anni prima. Nonostante questo però, il genere Abax non venne riconosciuto dalla maggior parte dei studiosi europei e venne considerato, a seconda delle opinioni, come un sottogenere del genere Pterosticus, introdotto da Bonelli, o del genere Pteronia, introdotto dalla Treig, per la maggior parte dell'Ottocento. E bisognerà aspettare il 1916 per vedere un primo tentativo di ristabilire l'ordine, quando Xichi stabilì la sinonimia tra l'Abax ather descritto da Ville e l'Abax parallelepipedus descritto da Pillar e Mitterpacher. Inoltre decisi di sostituire il nome Abax parallelepipedus dalla specie descritta da Dejean con il nome Abax pilleri. Contro Xichi si pose un altro entomologo, Janel, che nel 1942 preferì mantenere il nome Abax ather scelto da Ville, per non scomusolare l'assetto tassonomico, in quanto il nome Abax ather era il più utilizzato, e per non creare confusione a causa della sostituzione del nome Abax parallelepipedus scelto da Dejean con il nome Abax pilleri scelto da Xichi. Per questo motivo anche il tentativo di Xichi di ristabilire l'ordine dovete aspettare molto tempo per essere riconosciuto. Ciò venne soltanto recentemente, nel 2003, quando Busquet accettò formalmente la revisione nomenclatoriale proposta da Xichi. E con questo abbiamo finalmente finito. Dalla descrizione originale di Pillar e Mitterpacher alla citazione delle proposte di Xichi da parte di Busquet, sono passati la belletta di 220 anni, il tutto per tornare al punto di partenza. E ora a me non resta che chiudere il video qui, anche se ho volutamente tralasciato la storia della nomenclatura delle numerose sottospecie di Abax parallelepipedus, che altrimenti sto qui un'altra mezz'ora. Quindi vi saluto, vi invito a mettere un mi piace al video ed iscrivervi al mio canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!